E' finito in carcere con le pesanti accuse di tentata estorsione, minacce e lessioni, tutti i reati messi in atto a danno di un commerciante ambulante di Termoli. Dietro le sbarre un 51enne pluri pregiudicato e residente nella città adriatica. L'uomo a 9 era infatti diversi precedenti specifici proprio per estorsione oltre che per truffe e ricettazione. In particolare la vittima in una prima circostanza, mentre era intenta a scaricare la propria merce per la vendita, è stata avvicinata su un mandato del 51enne incriminato da parte di tre persone ancora in corso di identificazione che con fare minaccioso lo hanno esortato ad andarsene e smettere di vendere. Solo un paio di giorni dopo la vittima è stata di nuovo avvicinata in prossimità del proprio banco vendita, questa volta dall'arrestato che dapprima lo ha minacciato di lasciare quella postazione di vendita in quella piazza trattandosi a suo dire di zona da lui controllata, chiedendogli poi la consegna di parte del guadagno giornaliero. Ma il 51enne è addirittura passato alle vie di fatto sferrando alcuni pugni al volto della vittima. Le indagini della polizia hanno confermato i gravi indizi di colpevolezza per il 51enne. Sono scattate le manette. Blitz portato a termine dalla polizia municipale e degli agenti del commissariato di polizia di stato di Termoli, sgomberato e rudere ubicato in prossimità di piazza Giovanni Paolo II tra via Brasile e via Madonna delle Grazie. Quattro agenti della polizia municipale, tre agenti del commissariato e due dell'ufficio immigrazione della questura di Campobasso si sono arricati presso lo stabile abbandonato, fermando le sei persone presenti al suo interno. Si tratta di due donne e quattro uomini, senza fissa dimora, tutti di nazionalità rumena tra i 30 e i 58 anni. Avevano scelto questi locali per soggiornarvi, seppur in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie e degradate. Dopo lo sgombero coattivo, i sei rumeni sono stati accompagnati presso il commissariato di Termoli per le normali procedure di identificazione e per la successiva denuncia da parte della polizia municipale per occupazione abusiva di immobile. Nel corso dell'identificazione è stato inoltre appurato che tre dei sei denunciati alla procura avevano diversi precedenti penali a proprio carico. E' stata data infine disposizione alla terramoambiente di bonificare i locali sgomberati dal materiale trovato al loro interno, comunicando inoltre al settore lavori pubblici la necessità di inibire l'accesso a rudere. Tre sono gli avvisi recapitati da altrettanti funzionari della provincia di Campobasso da sostituto procuratore della Repubblica di Larino, Morena Susi, che sarebbero a quanto pare indagati per la morte della 21enne Simona Bizzarro, avvenuta in un terribile incidente il 29 aprile di un anno fa, sulla strada provinciale 40 che collega il paese di Porto Cannone a San Martino in Pensilis. A rivelarlo il legale della famiglia Michele Sodrio, due sono state le consulenze tecniche che hanno avvalorato la tesi portata avanti dall'avvocato e dalla stessa famiglia di Simona, le condizioni pessime della strada che non rispetta le norme di sicurezza, sia per quanto attiene l'aspetto puramente stradale che quello segnalettico. Dunque ci sarebbe stata una negligenza da parte di questi uomini che alla fine li renderebbe consapevoli che quella sera Simona è morta anche per questo. All'epoca infatti i genitori presentarono una denuncia per omicidio colposo contro la provincia di Campobasso, se c'è qualcuno che ha sbagliato deve pagare per la morte di un fiore che stava sbocciando.